Salva gente, alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, ovvero una vittoria per finire al meglio il ginore di andata e soprattutto per passare delle vacanze, insomma, natalizie serene e con animo, diciamo, più positivo. Però non è che sarà tutta sta gran partita, prendiamoci il risultato, però c'è qualcosa da dire. Quindi ne vado subito a parlare, prima però tu che stai vendo questo video, se ancora non l'avessi fatto, adesso che Natale fallo quasi come un regalo. Se ti iscrivi al canale, potrai sempre disiscriverti quando vorrai, ovviamente anche dopo le feste, anche se adesso nel periodo di feste ci saranno pochi video, però tu se vuoi rimani aggiornato sul canale cliccando sulla campanellina in modo che anche quei pochi video che faccio ti verranno notificati. Poi comunque qualsiasi video che andrai a vedere ricordati sempre di lasciare un like e ti ringrazio. Allora ragazzi, non una gran partita, parliamoci chiaro, sì, il 3-1 potrebbe pensare a una bella partita, in realtà i tre gol come sono venuti. Abbiamo avuto un'azione individuale di Pedro, sempre lui, sempre il Pedro che ho sempre detto già quando stava alla Roma, che secondo me era un ottimo giocatore, che quindi ancora si conferma, per l'ennesima volta, un ottimo acquisto. Poi abbiamo avuto un secondo gol su calcio d'angolo, un po' fortunoso, diciamo così, comunque siamo arrivati da calcio da fermo. E poi, ormai quando partita era finita, una bella azione, questo sì, con con di Luiz Alberto. Ed è proprio l'entrata di Luiz Alberto che mi ha fatto un po' più, diciamo, piacere la partita, che gli ultimi 20 minuti mi è sembrata un po' più dinamica e veloce la Lazio. Prima però cosa è successo? Prima però, ragazzi, ripeto, a parte il gol individuale di Pedro, che ha confermato quello che già penso, ovvero che questo giramento, giramento di palla continua della Lazio che gli porta via tanto tempo, perché comunque questo girare continuamente la palla porta via del tempo, il tempo che scorre durante la partita, che però poi non porta a nulla, perché poi se tu vai a vedere esclusi queste tre occasioni da gol, c'è stato poco, veramente poco, perché noi arriviamo spesso, perché poi ci arriviamo al limite dell'aria, ma poi lì finisce tutto, o se torna indietro o se butta la palla così, senza realmente una logica. E poi ci sono gli errori delle scelte, le scelte che facciamo sbagliate. Questa è una cosa che io ho detto più di una volta e che ho sentito anche da Sarri qualche giorno fa, ovvero si sbagliano le scelte, cosa si intende? Per esempio, al dodicesimo, se non mi sbaglio il minuto, Zaccagni fa un dribbling bellissimo, entra nell'aria, aveva veramente, secondo me, l'occasione di prendere e tirare la bordata in porta, cosa fa invece? Passa la palla verso l'esterno, che in realtà è un passaggio sbagliato, perché poi nessuno lo raccoglie, e perdiamo l'occasione. Ma perché? 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 C'era l'occasione di tirarla, perché fa un ulteriore passaggio? Verso l'esterno poi, che tanto da fuori non tira nessuno, a parte Bacicci ogni tanto. Altra occasione e scelta sbagliata, Anderson in contropiede, Anderson, Bacicci e Petro. Il passaggio è più semplice, sembrava così a vista quello per Petro, lui sceglie quello più complicato, Bacic. Va bene, hai scelto complicato, però se è complicato cerca di farlo bene, e invece essendo complicato, complicato rimane, perché glielo tira sui piedi, e quindi abbiamo perso un'occasione, e da lì a poco becchiamo invece dal 2-0 possibile, l'1-1. E questa è un'altra cosa, è un altro errore poi, l'1-1 ha evidenziato quello che spesso dico, ovvero che secondo me molti giocatori, soprattutto Luis Felipe, guardano spesso il pallone e non i giocatori. Ma questo lo dico spesso per quanto riguarda la difesa, perché se noi guardiamo le partite, spesso notiamo che noi andiamo appresso al pallone, anche in 2-3, senza nessuno che si guarda intorno, e vede che cosa sta succedendo con gli altri difensori, o con gli altri giocatori della squadra avversaria, che entrano in aria. Si presta troppa attenzione al pallone, e poca magari all'uomo, o ai giocatori, o quello che sta succedendo in aria. E anche oggi, mi è sembrato che quello guardava la palla così, e quello gli è passato da dietro, come niente. Mi spiace vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi errori, eppure vedo Sarri che scrive, 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 quindi si suppone che anche lui veda qualcosa, però poi non vedo correttivi in questo senso. Ho visto con piacere Radu, che per fortuna, causa infortunio a Isai, ha trovato un minimo di possibilità in più, aveva già giocato un pochetto con il Genova, però abbiamo visto che ci può stare lì. Capisco che saranno 8-9 anni che non fa il terzino sinistro, però ha dimostrato anche una parvenza di terzino, l'aveva fatta anche con Simone Inzaghi, perché comunque veniva messo molto esterno, tante volte è vero che faceva, diciamo, il terzo esterno. Però quelle galoppate, quelle discese, insomma, quelle movenze da terzino, gli sono rimaste, perché lui comunque terzino è, è difensore centrale e terzino. Gli sono rimaste, nonostante i movimenti non l'ha fatti tanto tempo, ma lui nasce così. Infatti oggi si è visto, perché sembrava molto più fluido e molto più sicuro rispetto Isai a portare la palla. Eppure sta richiesta, infatti, ma poi ne parleremo nei prossimi video, durante le feste, del per forza il terzino sinistro che io sento, secondo me non ha senso, perché a me mi sembra che manca più un vice acerbi, che lo vedo molto stanco, mi sembra che manca più al centrocampo qualcosa, perché pure Cataldi oggi qualche cappellata l'ha fatta, mi sembra che manca qualcosa lì davanti, perché stiamo ancora a giocare col falso Noeve, quindi insomma il terzino sinistro non mi sembra così urgente come viene detto. Comunque ragazzi, diceva, sta a parlare come se avessi perso, no, ho detto abbiamo vinto, io mi becco il risultato, mi sono piaciuto gli ultimi 20 minuti, perché non so se si sta cercando di mettere alla prova la pazienza di Luis Alberto, però nel senso il fatto che comunque sono due volte che entra e due volte che secondo me la partita non è che cambia drasticamente, però prende un'altra forma, mi sembra un alzio più dinamica, anche i giocatori, anche Milinkovic, che fino a un certo punto l'ho visto molto dietro, molto solo nel gestire le cose, ha cercato di fare, ma si vedeva che gli mancava qualcosa, io quando entra Luis Alberto, io vedo anche Milinkovic giocare meglio, come se avesse una spalla, poi esistono le coppie nel calcio ragazzi, esistono pure quando Goli e Benji, voglio dire, capito, ci stanno, ci stanno le coppie che si formano, per me ormai dopo tanti anni, Milinkovic e Luis Alberto è una coppia che si cerca, che sanno come muoversi, che non lo so, mi sembra che uno prenda energia dall'altro, quando c'è solo uno in campo, non gioca bene quando giocano tutte e due, ditemi anche un parere su questa mia affermazione, se anche a voi vi dà questa sensazione, fatto sta che gli ultimi minuti, mi sono sembrati i minuti migliori per la Lazio, nonostante il Venezia, stesse cercando di recuperare il risultato, Venezia, Venezia che mi è piaciuto in realtà ragazzi, perché il Venezia è una bella squadra, e in questa squadra c'è un giocatore, che chi segue il canale, per quello dico iscrivetevi al canale, perché poi tante volte dico le cose, e molti non seguendo il canale, non le sanno, però io già dall'anno scorso, quando c'era Enzaki, avevo già provato a dire, speriamo che gli dia spazio a questo giocatore, e così non è stato, quando è arrivato Sarri, ho detto, se è vero che sta vedendo le cassette, speriamo che veda bene le cassette di questo giocatore, e che lo tenga, invece niente, lo diamo alla Salernitana, lo diamo al Venezia, resta il fatto che secondo me, Keane, è un giocatore che in una rosa, come quella della Lazio, ci può stare, e potrebbe far bene, potrebbe anche crescere, è comunque relativamente giovane, dargli la possibilità, perché secondo me, tenere Andrea Anderson, che abbiamo visto pure stasera, non serve a nulla, tenere Akpac Pro, non serve a nulla, tenere un Keane, invece, che i piedi ce l'ha, ed anche i movimenti ce l'ha, secondo me, è una bella pedina, è nostra, cavolo, è nostra, e la diamo così, per esempio che non viene valorizzato, a me piace, e ripeto, è da quando è partito questo canale, che ormai è dalla stagione scorsa, che, mi sarete testimoni, chi mi segue dall'inizio, che io cerco di portare, su questo nome, Keane, ma non perché deve essere un titolare, sia chiaro, ma un'alternativa, che secondo me, può far bene, oggi nel Venezia, non dico che ha fatto il Luiz Alberto della situazione, però, quante volte è partito dai suoi piedi le azioni, quante volte, poi c'era anche, oddio, come sfugge il nome, l'italiano lì, quello, ancora giovane, comunque 26, 27 anni, Amaru, Amaru Lucanu, come cazzo si chiamava, oh beh, ora mi sfugge il nome preciso, chiedo scusa, andate a cercare, comunque avete capito di chi sto a parlare, che ha giocato praticamente tutta la partita, ha fatto un'ottima partita, questi sono giocatori che, non è perché, fino adesso sono stati sconosciuti, non possono entrare in altri, in altri tipi di rose più prestigiose, perché sono giocatori che sanno giocare a calcio, e a me piace vedere giocare a calcio, io oggi, tra Lazio e Venezia, mi è piaciuto molto di più vedere Venezia, ma molto di più, perché vedevo giocare a calcio, di là invece vedevo un giropalla, sterile, che portava fino al limite dell'aria, e poi torna indietro, anche quei giochi leziosi, tra Luiz Alberto e Pedro, sono belli da vedere, ma poi che arrivi al limite dell'aria, e non sai che cavolo fa, e ritorni indietro, a che è servito, abbiamo perso palla, e d'altro po' ci partono un contropiede, cioè, va bene essere leziosi, va bene divertirsi, però bisogna essere anche concreti, è quello che dico, io vorrei vedere una Lazio, che faccia anche sto giropalla, perda anche tutto sto tempo, passasse il pallone, 3000 passaggi, ma che poi, quando arriva al limite dell'aria, concretizzi in qualche modo, si può anche tirare fuori, si può anche sbagliare il tiro, si può anche, ripeto, non arrivare al gol, ma che tutto questo giro, poi arrivi a qualcosa, non che arrivo al limite dell'aria, e torno indietro, e continuo a rifaggirare la palla, io questa cosa non la capisco, comunque, ripeto, finisco qui il video, vanno benissimi i tre punti, quello che volevamo, siamo tutti felici, in Natale ce lo facciamo in serenità, vedremo, se a gennaio, veramente, ci stanno, questo inizio di rivoluzione, perché io non mi sento ragazzi, per me so, io spero che siano tutte faccate, abbiamo visto l'attaccante lì, dei goto poco, o là, come, ah no, sì, no, ci stiamo solo, sopra così, poi è arrivata la squadra, è dato 5 milioni, e si è preso, la squadra sconosciuta, voglio dire, ma che manco me la ricordo, che hanno preso, cioè non è che ci voleva tanto, se veramente ne interessava, quindi non so, quei nomi che girano, quanto siano veri, però, voglio vedere, perché sembrerebbe, che comunque, al di là dei nomi, realmente, un paio di colpi, forse, verranno fatti, e saranno, forse, quelli che servono, perché, sicuramente, servono, ma ne andiamo a parlare, con un prossimo video, quindi,